Percezione superiore Quando esplica le sue facoltà il veggente è invaso da una percezione superiore? Commento Non è il veggente che è invaso da una percezione superiore, ma è il contrario. È la percezione superiore che è tale perché appartiene a un piano di esistenza superiore che è invasa dal veggente, che può raggiungerla.